La mortadella per me è il raggiungimento di un'attività avviata da lontano e trasformata nel tempo. Quando ho iniziato a lavorare in questo settore avevo 15 anni, ho fatto 6 anni di apprendistato e a 23 anni mi sono messo in proprio. A quel tempo non ero partito per fare della mortadella, ero partito come tutti quelli che lavoravano nel settore dei suini di fare un percorso che parte dalla macellazione e va alla trasformazione delle carni. Quando ho iniziato a fare questa attività ho cominciato a macellare un po' di maiali alla settimana, da quei maiali si ricavava varie parti di carne e si provvedeva alla trasformazione di salsiccia, salame e un po' di mortadella. Io che sono di Bologna, da 60 anni faccio la mortadella, la faccio come mi hanno insegnato una volta, poi ho modificato la ricetta fino a raggiungere il risultato che adesso ho ottenuto e che molti apprezzano. Io da quando ho cominciato a fare la mortadella l'ho sempre chiamata mortadella di Bologna, non la mortadella Bologna, la mortadella di Bologna perché io sono a Bologna, quasi in centro, la faccio a Bologna, più Bologna che c'è, è